Trasmetti anche tu con Spreaker.com Io ho fantasia e posso anche volare La fantasia lo sai ti fa volare Guarda stelle, guarda In questo mare di stelle Mi perderò con te Benvenuti amici di Civico 93 Io sono Andrea e il vostro guarda stelle La puntata di oggi è dedicata al magico mondo della Francia Quindi parleremo di cinema e musica dalla bellissima Francia Però in studio non sono da solo Oggi mi è venuta a trovare una cara amica Una cara amica di Civico 93 e anche una mia amica Quindi do il benvenuto a Mafalda Ciao Mafalda Ciao Andrea, grazie per l'invito al tuo programma Guarda stelle e a Civico 93 Grazie a te che hai accettato il nostro invito È solo l'inizio di una collaborazione che spero che ci sarà anche in futuro Spero di vederti anche nelle prossime puntate Sicuramente accetterò ogni altro tuo invito Grazie mille Vai Mafalda, tocca a te Iniziamo subito con la canzone tratta dal bellissimo cartoon francese Un mostro a Parigi La Seine di Vanessa Paradise e M Vi consiglio di recuperare subito en DVD Appena uscito La Seine di Vanessa La Seine di Vanessa e M 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 La Sainte di Moi Questa era la scene di Vanessa Paradise M. Ora andiamo avanti con il cinema. Il film che vi consiglio in questa puntata è Piccole bugie tra amici, di Guglielm Canet, del 2010. Nel cast troviamo il premio Oscar Marion Cotillat, il premio Oscar Jean Desjardins e anche altri attori come Benoît Magimel, Gilles Lelouch, Lauren Lafitte, Valérie Bontot. La storia è questa. La consigliata è stata a Cafferet, nella grande casa sul mare, per un gruppo di amici parigini. Ciascuno con il proprio stress, ciascuno con le proprie piccole bugie. È per tutti il dolore di una mancanza, l'amico rimasto solo a Parigi in ospedale dopo un gravissimo incidente. Ci pensano e non ci pensano, la vita e le vacanze vanno avanti. Vincent non ama più sua moglie e prova qualcosa per l'amico Max, che la rivelazione rende ancora più nervoso e insopportabile. Poi c'è Eric, che non smette di provarci con tutte, mentre l'abbandonata Marie consuma storie di sesso senza gusto e futuro. Fra tutti questi disperati della vita, si aggira un solo idealista, il tenor Antoine, che vive appeso agli sms della ex, di cui è ancora innamorato. Questa è un'apparente tranquilla estate, vissuta con malinconia e tenerezza. È un film che vi consiglio perché è davvero un bellissimo film, scandito anche da una bellissima colonna sonora di brani, soprattutto anni Ottanta. Dal film ci andiamo ad ascoltare la canzone Talk to Me di Yodelis. Talk to Me di Yodelis. Talk to Me di Yodelis. It's like the sun is shining, on everyone but me, won't you talk to me, this is getting scary. Something got hold of your soul, you're like never before, is there something more, I haven't missed anything. Baby talk to me, talk to me, please talk, it's me, talk to me. Something just changed in my world. Andiamo avanti con la musica, Andrea, è una hit che sta scalando le charts francesi, Je te donne di Leslie e Aviriz. I can give you a voice. I can give you the force of my ancestral pride, the will to go on when I'm hurt deep inside. Whatever the feeling, whatever the way, it helps me go on from day to day. Oh, je te donne ce que j'ai, ce que je veux, je te donne, donne, donne ce que je suis. I can give you my voice, spread with rhythm and soul. Je te donne mes notes, je te donne ma voix. The songs that I love and the stories I told. Oh, ce que j'imagine et ce que je crois. Oh, ce que j'imagine et ce que je crois. I can make you feel good even when I'm down. Les raisons qui me portent et ce stupide espoir. Ma force et sa plateforme, le chip et le climat. Une épaule fragile et forte à ma voix. Je te donne. Oh, je te donne. Tout ce que je pense, ce que je suis, mes dents et mes défauts, mes divergences, mes différences. Je te donne. Je te donne. Je te donne. Tout ce que je pense. Questa è la Je te donne di Leslie, I will rise. Adesso voglio darvi una piccola anticipazione. Nelle prossime puntate di Guardastelle avremo come ospite, nello spazio intervista, una cantautrice belga, molto noto in Francia e di origine siciliana, Dominique Fidanza. Sarà per me un onore intervistarla. Quindi adesso ci ascoltiamo un suo bellissimo brano, Oui ou non, questa è Dominique Fidanza. Tu ris�ono un'onore intervistarla, Non, questa è la ricetta di spazio intervistarla, St. E' la ricetta delle arche, Non, questo mi sono più brutale. È? 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 È semplona, la matura, Non, è? È? La maison, le marmone Redoutant la fin du mois Sans la fin du mois Souvenire prisonnier A jamais de nos fautons Est-ce que je lui dis oui ? Est-ce que je réponds non Pour une nuit hors de gestion Est-ce que je lui dis oui ? Est-ce que je réponds non Si c'est pour la vie Ça paraît trop long Tu dis que je suis jolie Le temps va m'écorcher Peux-tu me jurer D'avoir demain comme aujourd'hui Pour ma vieille peau Ce regard de héros Ne m'en passe pas beau Est-ce que je lui dis oui ? Est-ce que je réponds non Pour une nuit hors de question ? Est-ce que je lui dis oui ? Est-ce que je réponds non ? Si c'est pour la vie ? Ça paraît trop long Le quotidien sera le poison Qui se distingue dans la passion L'envie s'enfuie Les nuits, l'enfuie Est-ce que je réponds non ? Est-ce que je réponds non ? Est-ce que je lui dis oui ? Est-ce que je réponds non ? Pour une nuit hors de question ? Est-ce que je lui dis oui ? Est-ce que je réponds non 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 ? va. George e Anne sono una coppia di ottantenni insegnanti di musica che passano il tempo volentieri a leggere ed assistere a concerti. La loro vita da pensionati viene condotta in serenità con alcuni incontri con vecchi allievi e con la loro unica figlia Eve, anche lei musicista che vive in Scandinavia. Il loro rapporto viene messo alla prova dopo che la moglie Anne viene colpita da un ictus. Da qui in poi la donna dipende totalmente dal marito e tre volte alla settimana da un'infermiera. Lui affronta la vita di lei con serenità vedendonele aggravarsi sempre di più fino alla fine della vita di Anne. E ora andiamo avanti con la musica. E ascoltiamo un noto gruppo rock francese che io con Darnier Dance. Io voglio solo un noto gruppo rock francese che io voglio solo un noto gruppo rock francese che io voglio solo un noto gruppo rock francese che io voglio solo un noto gruppo rock francese che io voglio solo un noto gruppo rock francese che io voglio solo un noto gruppo rock francese che io voglio solo un noto gruppo rock francese che io voglio solo un noto gruppo rock francese che io voglio solo un noto gruppo rock francese che io voglio solo un noto gruppo rock francese che io voglio solo un noto gruppo rock francese che io voglio solo un noto gruppo rock francese che io voglio solo un noto gruppo rock francese che io voglio solo un noto gruppo rock francese che io voglio solo un noto gruppo rock francese che io voglio solo un noto gruppo rock francese Grazie a tutti 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 Grazie a tutti